ciao a tutti vado a rifrescare il mio licoli questo è un licoli che ho creato qualche giorno fa direttamente dalla pasta madre poi vi metto il link in alto per vedere come farlo quindi non ce l'ho sempre perché uso quasi sempre la mia la pasta madre solida questo l'ho tirato fuori dal frigo come avete visto stava dormendo quindi gli do una bella sforchettata per riattivare per riattivare il lievito adesso ne rinfresco soltanto 40 grammi il resto lo tolgo quindi metto 40 grammi sulla bilancia tolto la tara aggiungo 40 grammi di acqua questa è un'acqua che prendo alla fonte leggermente minerale appena appena se siete sicuri che la vostra acqua del rubinetto non c'è cloro potete tranquillamente usare l'acqua del rubinetto sforchetto come vedete stanno uscendo già le bollicine eccole qua e adesso ci aggiungo 40 grammi di farina in questo caso sto usando la farina di tipo 1 quindi al contrario della mia pasta madre dove uso sempre la zero il licoli sto provando a rinfrescarlo con la tipo 1 la petra 1 ok tolgo tutto e sforchetto ancora c'è anche chi usa lo sbattitore elettrico meglio preferisco così farlo semplicemente con una forchetta sbatto per benino ok eccolo qua naturalmente la dose potete aumentarla io ne tengo poco giusto per una volta sbattuto pulisco la forchetta pulisco anche i bordi così ci faccio un segno e posso seguire la crescita io lo lascio a temperatura ambiente ma se non vi serve potete metterlo tranquillamente in frigo ecco qua faccio il segno così lo copro con la pellicola che va bucherellata con uno stecchino e lo lascio ed eccolo già dopo un paio di ore e vedete quante bollicine ci sono ciao ciao a tutti